Ladies and gentlemen, all the young people, the issue time, a belle casa, a belle mia, iscrivetevi al canale, a belle del canale non profit, se non mi piace per Dio, non dico per Dio, dai dal canale, è un momento della democrazia, è come la piacevolezza della mia schiena, soprattutto la mia parte sinistra, vi lascio fare come vi pare, a belle di casa, a belle mia, che problemi, la pala, tutto un criccato, che brutto essere vecchi, a meno di 10 giorni dal compleanno mio, la vecchiaggine, vabbè questo che ci ha detto, io ho fatto il video oggi mi dice che è vecchio, se vede, guarda la barba bianca, capito, dovevo parlare per forza di calcio, certo, parliamo per forza di calcio, lascio Juve all'Olimpico, non sto qui a parlare di segnazioni arbitra, di tutte queste cose ragazzi, di tutte queste cose ragazzi zero, zero proprio, sapete, mai, anzi dico solo quando le cose ci vanno a favore, quando ci vanno contro, quindi di quella cosa non parlerò, però c'è da parlare di un altro aspetto, giochi contro la Juve, una squadra che sta facendo punti su punti, partite utili su partite utili, giochi contro una squadra che secondo me sulla carta, e ripeto, sulla carta, e ripeto, sulla carta, se no, eh, ma non lo sai, ma non ci, sulla carta, ma vi ha capito, vabbè, ho detto sulla carta, mi è stato a stressare, sulla carta forse la rosa più forte del campionato, con i nomi più alto suonanti, la squadra sicuramente con più tradizione in Italia, una squadra che, ok, dice, non fa un bellissimo gioco, ma bisogna saper vincere, come cantavano al contrario a alcune persone negli anni di vecchiera, bisogna saper, non so che era perdere, mamma, ne avevamo pure un tigliosi stamattina. La questione fondamentale per farvi capire come sarà la partita di domani, ho dato un'occhiata di scontri diretti in casa, che vuol dire Lazio-Juve, Serie A, che vuol dire Coppa Italia, Supercoppe, non contano, parliamo di Serie A, di campionato, Lazio-Juve, prendiamo dal 2003, 20 anni, in 20 anni la Lazio ha vinto due volte, appunto nel 2003, e abbiamo vinto pre-Covid, a lui non gli piace la musica bassa, manca a me gli piace la musica stasera, comunque, mi stavo dicendo, quindi, vorremmo arciare un po' di più, sta musica, lei va di dare più al canale, va, vi stavo dicendo, ma questa è la figa per le cazzuette, vi stavo dicendo, negli ultimi vent'anni abbiamo vinto due volte, quindi qualcosa vorrà dire, ragazzi, famo la finita, vorrei dire che sono abituati per tradizione, per tutto, non mi tirate fuori ella, ok, metteci tre partite e aiutatevi dall'arbitro, in vent'anni, io non lo dico perché vi sento a voi, che poi me lo scrivete, potete farvi una, quante ce ne sono in vent'anni? 20 partite, giusto? Se ti giochi una volta all'anno all'Olimpico, 20 partite, ne vinte due, la matematica non è una opinione, la nostra bestia è nera, speriamo che Sarri riesca a fare da anticriptonite, speriamo che le vittà nella grande, speriamo che tutti vogliano dimostrare che meritiamo di stare dove stiamo, io ho già tantissima ansia, domani la vedrò, come al solito nel club, e comunque noi voliamo, e l'altri, dai, forza Lazio!